La bellezza dell'Ovovia in una giornata di sole e di gare. Sono le otto e mezzo la mattina e quello è quello che si presenta alla vista dei turisti e di sportivi tutti. Al conto con alcuni paesi che si presenta alla vita di nascita e al conto con alcuni paesi che si presenta alla Firenze Grazie per aver guardato il video.